Radio Ferentino, sounds different. Il trentici, Marco Dallamata. Il quattordici, Rimini Vipo, serrata. Il diciotto è Fabio Bertetta. Il diciannove, Rami Francesco, croccia. Il trentici, vedevito, tata. Il venticinque, vedevito, Gnattalini. Il diciannove al tocco, Augusto Carata. La direttore del grande per il primo, Sandro Cusconi. Viene il diciannove, a seconda. I signori, aspettano Carata e Alberto Silva. Signori e signori, vedevito, e soprattutto, vuoto Aspen a tutti. Il diciannove, un pòi d'amorato, un pòi d'amorato. Chirò, un pòi d'amorato. Il dopo il partito, va bambino. Il diciannove al tocco, il diciannove. Nel dopo, lungo. Il diciannove. Il diciannove al tocco. Stai a dentro, stai a dentro, stai a dentro. Stai a dentro, stai a dentro. Via! Stai a dentro, stai a dentro, stai a dentro, stai a dentro. Stai a dentro, 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 stai a Alla prossima! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti